Eccoci qua, buongiorno, benvenuti alla Zuppa di Poro del 9 settembre, tra poco più di un'oretta ci sarà Conte che parlerà alla Camera dei Deputati e alla ricerca della fiducia. Quindi troveremo un Conte che dopo 14 mesi avremo una foto plastica, io vi invito a guardare quella, la foto di 14 mesi fa Salvini, Di Maio, i ministri della Lega, dopo 14 mesi con la faccia credibile dell'uomo di Stato ci saranno invece Franceschini, la bella Nova, cambierà completamente il governo. Io la trovo una cosa fantastica, soltanto la politica riesce a fare queste volta faccia che insomma nella vita normale, quotidiana di qualsiasi essere umano sarebbe uno sputtanamento totale. Ma cosa c'è sui giornali oggi? Quali sono i temi fondamentali? Intanto vi segnalo, e lo dirò cento volte, che la diretta di Conte la troverete sul sito nicolaporro.it e lì potrete commentarla, così come state facendo ora su Instagram e su Facebook, perché metterò una chat alla quale vi dovrete iscrivere, ma è facilissimo, attraverso il vostro account o Twitter o Facebook, ma ve lo dico anche tra poco. Torniamo sulla zuppa di porro di oggi, cosa c'è sui giornali? Fondamentalmente il Corriere della Sera e Repubblica hanno due punti di vista diversi su questo governo, anche se più o meno convergenti. Cioè che cosa cambierà? Cambierà la politica sul di migrazione. I migranti avranno nuove regole, sostanzialmente si passerà dai porti chiusi ai porti aperti, ma secondo il Corriere della Sera cosa succede? I porti aperti faranno arrivare le ONG il traffico di uomini che loro hanno con tanta bontà, sono riusciti a recuperare in mezzo al mare, dai fluttu e dalle onde del mare, e questi verranno ricollocati in tutta Europa. Quindi porti aperti e la speranza di ricollocarli in tutta Europa. Questa è la vendita, da un punto di vista mediatico, di quello che succederà. Buoni, ma rigorosi, perché non ce li tediamo in Italia. Insomma, potrebbe essere questo il compromesso secondo il Corriere della Sera, che ovviamente non lo legge come un compromesso, ma come una grande vittoria della bontà e della razionalità europea. Cristian Rocca tira fuori l'hashtag che gira per tutti quanti i social, forse non i nostri, fateli scendere sulla stampa dicendo che se apre i porti il governo sarà davvero legittimato. L'unica grande cosa che legittimerà questo governo sarà aprire i porti, un po' come diceva, mi sembra, Concita De Gregorio, poche settimane e pochi giorni fa sulla Repubblica, fate una cosa di sinistra. Quindi, insomma, la pattuglia di quelli che vogliono l'apertura dei porti come fatto simbolico di questo governo cresce. Gente che forse, poi dopo io penso che anche gli Zingaretti, Renzi e quelli che si sono resi conto quanto è delicato il tema dell'immigrazione, dicono voi i voti li andate a cercare voi. Ma questa è una parentesi che apro e poi chiudo. Il piano migranti la Francia avrebbe aperto all'Italia secondo il messaggero perché avrebbe accettato se, dico io, chiusa la parentesi, di riprendersi i nostri migranti. Io voglio vedere che cosa ormai dovesse succedere se arrivano in Italia, una domanda che porrò questa sera ai miei ospiti a Quarta Repubblica, arrivano 50.000, 80.000 con i porti aperti, cioè come avveniva prima ai tempi di Renzi, migranti, voglio vedere che di questi 80.000, 70.000, 60.000 vanno a finire in Europa. Lo voglio proprio vedere. Poi dopo se funziona, funziona. Ma detto questo stiamo cercando, da un punto di vista ideologico, di pensare in un'Europa che possa accogliere chiunque venga in Italia con i barconi. Se secondo voi questa può essere la politica migratoria di un continente, lo può essere dell'Australia, lo può essere della Cina, lo può essere degli Stati Uniti, no. Ma dell'Europa sì, cioè chiunque voglia può venire in Europa. Io non so, vabbè, fantastico, in un paese in cui io mi trovo il giornale che è lo strillone del Movimento 5 Stelle, che è il Fatto Quotidiano, il suo portavoce è di fatto Travaglio, qualcuno di voi dice stai esagerando. Ma ragazzi stai esagerando. Oggi sul Fatto Quotidiano ho letto una cosa che neanche, neanche penso al governo Berlusconi del 94, quello del 2001 il giornale avrebbe potuto scrivere. Sentite il titolo sopra, in testata alta del Fatto Quotidiano. È vero, è giuro che non sto dicendo una fake news. L'hanno scritto. I ministri del Conte 2 sono quasi tutti competenti. I ministri del Conte 2 sono quasi tutti competenti. Beh, ma allora vale anche che arriva Babbo Natale. Perfetto. Altro lato che scopriremo sul discorso di Conte, che è diventato una specie di oracolo di Delfi o di Roma, è il fatto che Conte farà le riforme costituzionali. Repubblica, un governo per una legislatura costituente, si occuperà del referendum consultivo, del referendum della riforma proporzionale della legge elettorale. Non c'è bisogno in questo di un referendum costituzionale, perché è una legge ordinaria. La sfiducia costruttiva, il referendum dei, tutta una serie di cose costituzionali che la verità legge in maniera diversa, Belpietro. Per la verità queste riforme costituzionali imbriglieranno questo governo e lo renderanno, anche se non ha maggioranza e perde di consensi, lo terranno fino alla fine della legislatura, perché si dovranno fare queste famose benedette riforme costituzionali. C'è un dubbio che io non riesco a capire perché gli amici di Repubblica non si pongono, che peraltro non è che siano dei grandi amanti di questo governo. Ma mi spiegate una cosa? Ma il mandato popolare per fare delle riforme costituzionali, ma chi cacchio gliel'ha dato a questo governo? Cioè, noi stiamo dicendo che questa sarà una legislatura, un governo di riforme costituzionali, con un Parlamento che questo governo non ne vuole proprio sentire. Ed è un governo che è stato prisso con un cambio di maggioranza a metà, a un quarto di legislatura. Poi vale tutto, perché ci spiegheranno che i padri costituenti dicono che questa è la democrazia parlamentare. Beati loro. Penso che siamo in una stagione in cui varrà tutto, perché se lo fanno loro va tutto. Voglio votare, dice Luciana, non si vota qua, non si vota. Salvini ha commesso un errore clamoroso. Beh, insomma, di questo si occupano tanti giornali da un po' di settimane. Ma la cosa che mi diverte è il Foglio, che sono settimane, che lo chiama truce, lo trova insopportabile, e in effetti, come scrive forse oggi Mieli, no, non scrive Mieli, scrive qualcuno di più sveglio, più che sveglio direi più aderente alla realtà. Cioè dice, in realtà questo non è un governo che nasce per fare qualche cosa. Non è che sono uniti da qualche cosa, sono uniti dall'odio nei confronti di Salvini. Quando leggi oggi il Foglio che Cerasa sopra e Ferrara sotto si occupano ancora di Salvini, ragazzi, smettetela con questa ossessione. C'è anche altro nella vita. Parlate di questo governo, oggi parlerà Conte. Cioè la loro unica ossessione è quella che tiene in piedi questo governo, in effetti. Cioè Salvini, per loro vale tutto come sempre, dice Matteo. È esattamente così. Tra l'altro oggi, solo le 24 ore, si sveglia con modestia, perché non se ne rende conto, anzi dovrebbe rendersene conto, in un paese normale oggi Boccia, invece di andare a Cernobbio, si dovrebbe occupare di questo tema fondamentale. Questi faranno il salario minimo. E oggi, come nell'ultima riga del sommarietto di pagina 1, si rende conto il sole 24 ore. La proposta di legge per il salario minimo è depositata in commissione dal PD e dal Movimento 5 Stelle. Quindi se c'è una cosa su cui vanno d'accordo, è esattamente questa minchiata. Tutti quelli bravi che ci ascoltano diranno il salario minimo è una cosa giusta, porro, come cacchio ti viene in mente, eccetera. C'è un piccolo dettaglio, 9 euro di salario minimo, compresi i contributi, in Italia, a parte tutti gli effetti macroeconomici, la rottura dei contratti collettivi, tutta una serie di cose che non sto qua a discutere perché è noiosissima, c'è un piccolo problema sul salario minimo. E sapete qual è? È che col salario minimo a 9 euro l'Italia ha posto il salario minimo più forte e più alto di tutti i paesi oxe. Allora, siamo in quella condizione? O siamo nella condizione che essendo quello il salario più alto di tutti i paesi oxe alla fine, porca puttana, quello che succederà sarà banale. Nero? Nero? Non sarà quello che avverrà? Sarà nero, ma chi se ne frega. Il sole 24 ore speriamo che se ne accorga. L'ultima cosa, permettetela di farla perché, cioè, permettetemi di farla, faccio come mi pare, questa specie di figura retorica, permettetemi di farla che fanno in televisione, è presa pure a me. No, alla zuppa di porro dico quello che cacchio mi pare a me. E la voglio dire anche su questo direttore di rete della Sette, un certo Salerno che nessuno di voi conosce. Nel suo palmarès, non so cosa ci sia se non aver lavorato a Rai 3, ma la cosa che mi diverte di più di questo, che è proprio la sinistra della sinistra di Settembrini, no? Si vedono qua da Settembrini lui, Zoro e persone degnissime, ma che sono quella roba lì. Ma quando oggi fa un'intervista al Corriere della Sera, del suo padrone, Cairo, editore del Corriere della Sera, che ovviamente intervista Salerno, ovviamente a schiena dritta, come potrete immaginare, gli passano una roba che io dico, va bene tutto, ma non gliela puoi passare, dice, la nostra è una televisione che è stata accusata di essere leghista. Grillina, qualche volta. Filopidì, sempre. Berlusconiana, a Salerno! Ma che te sei, drogato? Ma mi devi spiegare quando mai la Sette è stata definita Berlusconiana! Devi cambiare pusher, e in virtù di tutte queste accuse, Grillina, leghista, berlusconiana, questo è il ragionamento del direttore dei sinistri della Sette, vuol dire che noi siamo liberi. Cioè, vi rendete conto? Questo è proprio, cioè, è una vignetta di Maddox o di Maxox, come si chiama il suo vignettista. Cioè, Salerno è uno che ha fatto carriera perché è amico della sinistra dei salotti romani e ha sempre odiato Berlusconi, Berlusconiani, e ne ha sempre fatto una televisione più che anti-Berlusconiana, e oggi rivendica che qualcuno gli dice che è Berlusconiano affinché lui si possa considerare libero. Cioè, vale tutto! Vale tutto! Salerno, dovremmo far di Salerno, come il fatto dovrebbe scrivere, l'attestata del fatto dovrebbe essere i ministri di questo governo sono tutti competenti, come ha scritto, e sotto, Salerno è un Berlusconiano! I pusher non sono più quelli di una volta. Conte, in diretta, sul mio sito nicolaporro.it, dalle 11 o poi, non mancate, potete commentarlo, potete scriverlo, gli amici di Facebook, gli amici di Instagram, quindi venite tutti sul mio sito, ci vediamo insieme, questo conte istituzionale. Ciao!